L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente dell'Assemblea, Valerio Cattaneo, ha deciso anche quest'anno di aderire alla campagna su risparmio energetico Millumino di Meno, il tradizionale evento lanciato dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2, giunto alla ottava edizione. Perché l'adesione non sia solo simbolica, si è messo a disposizione dei dipendenti del Consiglio regionale e dei cittadini un decalogo di buone pratiche per contribuire al contenimento dell'energia attraverso la riduzione degli sprechi e dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la produzione di energia pulita.